iniziamo oggi questo corso che si chiama sistemi informativi aziendali che come ben sapete perché siti qui è messo al primo anno della magistrale di ingegneria gestionale ho visto che c'è un numero di voi non non basso c'è notevole circa quasi un terzo di quelli che vedo iscritti per ora sul portale che sono ancora da immatricolare sono in fase di anticipo eccetera quindi sarà divertente poi via via che cambierete matricola vedere il materiale sul portale eccetera ma questi sono dettagli noi stiamo già ragionando come come laurea magistrale questo è un corso che cerca di porre le basi da un lato le basi del percorso ICT della magistrale ma comunque dare informazioni traversali che siano sperabilmente utili anche per chi seguirà gli altri percorsi gli altri orientamenti di questa magistrale qualcuno di voi mi ha già visto per chi non mi ha visto ancora mi chiamo Fulvio Corno e insieme al collega Marco Tocchiano che farà invece i vostri compagni dalla M alla Z terremo insieme questo corso di sistemi informativi aziendali insieme nel senso che poi ciascuno ovviamente i propri studenti le proprie aule i propri esami ma cercheremo il più possibile di mantenere allineato il contenuto le lezioni le slide il materiale didattico e di sicuro faremo l'esame uguale alla fine quindi se ci fossero dei motivi logistici che in realtà non ci sono perché gli orari sono praticamente sovrapposti però sappiate che siamo così due corsi sono fortemente paralleli molto allineati qui partiamo parliamo del corso uno c'è andato l'uno solo perché siamo la prima metà dell'alfabeto cosa facciamo in questo corso in questo corso cerchiamo di ragionare sulle fasi di progettazione poi daremo dei nomi più specifici parleremo di analisi ma analisi di requisiti e varie sottofasi ma così in termini generali cerchiamo di immaginarci un sistema informativo che sarà fatto di software sarà fatto di hardware di reti di interfacce prima che questo esista c'è nella fase in cui questo sistema informativo deve essere progettato oppure se ne deve progettare un rinnovo un aggiornamento un'espansione un adattamento un adeguamento a tutto ciò che volete c'è una fase nella quale occorre disegnare evocativamente abbiamo messo questo disegno fatto a mano come sarà il sistema informativo che dobbiamo di cui abbiamo bisogno di cui avremo bisogno e poi porterà ovviamente alla realizzazione del prodotto finito che sarà una combinazione di hardware software city web reti interfacce gadget di controllo eccetera eccetera sistema informativo è un termine molto molto generico generale ma perché le metodologie che applichiamo alla fine si applicano a quasi tutti questi sistemi anche se poi avranno declinazioni diverse tanto per capire qui c'è stato messo un telefono ma potrebbe essere la lo sportello del bancomat come potrebbe essere facebook come potrebbe essere un pc desktop che ti porti a spasso sono tutte tipologie di sistemi informativi allora noi siamo in un corso di ingegneria gestionale non ci interessa non è il nostro scopo anche se qualcuno lo vuole fare magari per hobby sarà il contento ma non è nostro il vostro scopo quello di imparare a costruire il sistema informativo o anche solo a capire nel dettaglio come funzionano le varie componenti su questo si spera che ci siano delle persone specializzate con formazione più tecnica più informatica più elettronica che si occupino poi della realizzazione e del funzionamento messa in opera manutenzione eccetera eccetera dei sistemi quello che però non potete non sapere almeno detto da un informatico è che lingua parlano gli informatici nella vostra funzione di gestionali al giorno d'oggi è difficile trovare un'azienda in cui sistemi informativi non siano una componente se vogliamo magari in molti casi predominanti del business model ma in ogni caso fortemente influente sull'operatività quotidiana allora dal lato del gestionale è fondamentale riuscire a capire cosa sono come ragionare con questi strumenti con questi sistemi poi non sono solo strumenti che implicazioni hanno sul modo di lavoro in azienda e soprattutto nel momento in cui occorre fare i passi più grandi quindi analizzare ciò che si ha capire se ci sono dei requisiti nuovi capire se banalizzo se il fornitore che ti arriva il rappresentante che ti arriva alla porta stamattina lo deve mandar via a calci perché ti sta offrendo una cosa che non ti serve è un prezzo esagerato oppure potrebbe darti la chiave per un aumento di produttività nei prossimi dieci anni ecco questo va capito da voi quindi dovrete avere le chiavi per riuscire a comprendere il meccanismo di funzionamento di progetto dei sistemi informativi non solo anche le chiavi per poterne gestire l'acquisizione e la realizzazione cioè a un certo punto io quello che mi immagino in questo corso e cercate di immaginarvelo voi anche quando faremo le esercitazioni di avere in mano un foglio di carta che è un ordine la commessa di lavoro in cui tu dai l'incarico a qualcun altro di realizzarti un sistema ciò che c'è scritto su quel foglio da un lato è la tua visione di che cosa hai bisogno ma dall'altro è un documento contrattuale sulla base della quale il committente o l'outsourcer realizzerà ciò che gli hai chiesto ogni cosa che tu non hai capito lì dentro o non hai spiegato bene o non hai espresso correttamente o hai espresso in modo ambiguo o contraddittorio sono tutti soldi persi perché poi il tuo fornitore farà ciò che vuole e si infilerà nei buchi della specifica per cercare di diciamo in gergo fregarti ma poi fa parte dell'adempimento di un contratto io ho fatto ciò che mi hai chiesto se hai mai chiesto una cosa sbagliata paghi e poi dopo eventualmente paghi per una variazione quindi i giochini che facciamo qua, gli eserciti che facciamo qua sono sicuramente di tipo didattico impareremo delle metodologie di specifiche, di rappresentazione per ragionare su questi sistemi informativi prima ancora che esistano perché appunto immaginiamoci di essere una fase proprio di commissione di appalto o di ordine di un nuovo sistema gli esercizi che faremo, dicevo, hanno una componente didattica ma in realtà sono anche abbastanza rappresentativi di quello che potrebbe succedere nel reale quindi cerchiate sempre di pensare e fatelo eventualmente questo esercizio io l'ho fatto in questo modo secondo me questo, che sono il modello concettuale ad esempio di cui lavoreremo la settimana prossima l'ho fatto in questo modo fa solo un tuo compagno che non sappia nulla dici tu da qua cosa capisci, cosa faresti secondo te come funziona questo sistema? perché il problema è sempre quello di comunicare in modo preciso non ambiguo le specifiche di un sistema poi faremo anche altri discorsi che sono più, diciamo così, informativi sulle tipologie di sistemi informativi che esistono la loro introduzione, eccetera ma il pezzo forte, diciamo così, di contenuto di questo corso è proprio imparare ad analizzare che cosa ci serve specificarlo e descriverlo in modo che sia non ambiguo e, diciamo così, anche formalmente corretto allora qualche informazione pratica prima di partire allora tutto il materiale che vi serve che vi servirà per poter lavorare sarà o sarà pubblicato su questo sito di cui potete ricordare questo indirizzo breve che vi rimanda a questa pagina adesso tra una settimana o due probabilmente l'aspetto grafico di questa pagina cambierà un pochino perché stiamo rifacendo il template del sito non spaventatevi ma i contenuti saranno esattamente gli stessi quindi se dovete appuntarvi una cosa l'unica cosa che dovete scrivervi è questo indirizzo poi da lì ricavate tutto il resto su questo sito ci sarà tutto il materiale eh, l'ho tolto troppo in fretta voi dite forse ingegneri allora sul portale della didattica io non metto niente tutto il materiale è su questo sito proprio perché appunto metà di voi o non metà un terzo di voi cambierà matricola stava facendo ci sono sempre dei pasticci gente che non ha ancora il carico didattico non ha ancora iscritto i trasferiti creerebbe solo problemi avere una portata didattica a cui poi non possono accedere fioccano le mail mi puoi abilitare cose di questo genere non abito nessuno portata didattica perché la portata didattica non c'è niente ciò che abbiamo se l'abbiamo su questo sito no, non è vero se me lo chiedete vi abito più che altro per ricevere gli avvisi quando li mando la portale ma sarà abbastanza raro mentre invece tutto il materiale didattico appunto lo condividiamo su questo sito che è mini sito via una manciata di pagine che è organizzata in questo modo io adesso vi faccio vedere quello dell'anno scorso perché quello di quest'anno è vuoto ancora però come è strutturato il materiale dell'anno scorso l'ho messo da parte poi ripartiamo da zero quindi centralmente c'è una zona di avvisi che è la prima pagina quando entrate in cui vengono dati beh lo dice la parola gli avvisi scadenze compiti esami cose di questo genere gli avvisi più importanti più urgenti vi li mando anche attraverso una mail o nel caso un sms dal portale come già sapete che succede poi c'è una parte vabbè introduttoria molto molto scarna che dice adesso poi vediamo quella di quest'anno che dice l'orario i docenti e il programma del corso e le luci di presentazione che sono i luci che stiamo usando adesso letta una volta letta per sempre la parte invece con cui interagirete di più le due parti con cui interagirete di più sono una quella che si chiama materiale come vedete questa è del 2013-2014 qua sul corso nuovo andremo via via a popolarla ma io la lascio comunque pubblicata sulla pagina vecchia in modo che qualcuno dell'anno scorso deve ripassare eccetera non vado a cancellare tutto per ricostruire ma c'è comunque come riferimento qui abbiamo il grosso del materiale che sono i lucidi delle lezioni e il materiale relativo alle esercitazioni in aula in laboratorio quindi sia testi che in molti casi anche le soluzioni quindi tutto il materiale che circola sappiate come regola generale che se esci su questo schermo c'è sul sito o se non c'è subito ci sarà il giorno dopo o cose di questo genere quindi potete mantenere l'attenzione su quello che viene detto sui concetti e non sul ricopiare le cose ma questo ormai è abbastanza scontato direi così come sezione materiale così come la sezione registro che a regime sarà una cosa di questo genere io da un po' di anni ho preso questa abitudine di tenere online il registro delle lezioni quindi ogni lezione che faccio a volte lo faccio anche con qualche giorno di anticipo o a volte invece lo faccio il giorno stesso o il giorno dopo indico le lezioni che sono a calendario beh quelle sono con l'argomento così uno non è potuto venire cosa ha fatto quel giorno c'è scritto lì e a fianco di ogni lezione metto due link uno è un video perché ogni lezione viene registrata io salvo inconvenienti tecnici perché visto che è una cosa che faccio in modo artigianale da solo magari se qualcosa non funziona dovendo concentrarmi sulla lezione magari non me ne accorgo quindi potrebbero esserci delle lezioni che per disguidi saltano ma normalmente la mia abitudine è di registrare la lezione per cui io per questo mi sono dotato di tanti fili con questo microfono ciò che io dico e ciò che viene proiettato dal pc verrà registrato e ve lo metto a disposizione sul sito quindi avete la registrazione delle lezioni non c'è la mia faccia ma questo secondo me è un vantaggio c'è solamente l'audio e la la schermata tecnicamente si chiama screencast ciò che viene mostrato dallo schermo questo lo facciamo sia io che torchiano praticamente per tutte le lezioni salvo di disguidi tecnici sapete che avrete questa risorsa a disposizione so che molti hanno dei lavori attività part time tirocini adesso sarà più nel secondo semestre che nel primo speriamo che questo sia uno strumento che vi possa aiutare a fianco indichiamo beh questo in realtà è un doppione questi link qua da scaricare sono il doppione dei lucidi quindi il materiale che trovate già anche nella sezione materiale con la differenza che nella sezione materiale è diviso per argomento e invece qua a fianco di ogni lezione ci sono i lucidi relativi a quella lezione quindi se state guardando avete perso una lezione e volete seguirla andate a vedere lì sapete esattamente quali sono gli slide che servono se invece state ripassando vi conviene andare nella sezione materiale dove c'è tutto io cerco di tenere allineati se mi sfugge qualcosa se dimentico di linkarlo da una parte o dall'altra ditemelo è solo questione è colpa dell'età così come materiale legato al laboratorio quindi sono i testi le soluzioni degli esercizi cose di questo genere quindi da questa pagina registro e ciò che succede nel corso viene ribaltato qua sopra e di fatto è il 90% di ciò che ci serve ok nello svolgimento del corso quindi tutto questo sarà su questo sito è libero a tutti non ci sono password chiunque può entrare arrivare scaricare riusare il materiale e quello che preferisce poi con un certo ritardo i video li metto anche su youtube ritardo dovuto al fatto che è abbastanza noioso caricare perché devi mettere i titoli eccetera allora ogni tanto ho tempo e allora ne carico un pochino quindi mentre il video sul sito del corso vanno a finire il giorno stesso al massimo il giorno dopo perché è una operazione molto rapida per me manuale invece su youtube quando ho un attimo di tempo li metto su quindi magari passo una settimana 10 giorni eccetera attendere ci saranno ma non questo lo faccio perché magari appunto vedere i video qua in formato avi da altri tipi di dispositivi può essere scomodo no? mentre invece su youtube c'è tutto ecco l'unica avvertenza so che alcuni sempre tra virgolette si sbagliano ma non guardate mai i video cliccandoci sopra perché non è un server di streaming il server su cui c'è un pc normale la rete non è non è un formato pensato per vedere i video in streaming come succede invece su quelli del portale della didattica quindi tasto destro scarica e poi ve lo guardi con calma se lo guardi online andrà a scatti non riesci ad andare avanti e indietro eccetera perché non è un server pensato per vedere in streaming i video quindi quando cliccate sopra ricordatevi non fatelo aprire ma sempre il tasto destro e scarica in locale il file questa è l'unica avvertenza ok quindi dal sito troviamo tutte le informazioni che ci servono le persone che vedrete alternarsi in questo corso oltre al sottoscritto di cui ci sono anche i miei riferimenti ma che sono gli stessi che trovate sulla rubrica del poli ci sarà un dottorando che si chiama Sebastiano Assed che seguirà parla benissimo italiano quindi non fatevi dei timori è studiato al Politecnico quindi è qua da sempre è solo il nome che trae in inganno che seguirà soprattutto la parte di laboratorio adesso non nelle prime settimane perché per motivi di scambio di lezioni ci sarò io ma sono le due persone a cui far riferimento ok durante il corso se non trovate mai cercate lui o viceversa l'orario vabbè lo conosciamo lezioni sono oggi in quest'aula alle ore 13 e poi avremo tutto il pomeriggio del giovedì per fortuna in un'aula un pochino più comoda come dicevamo che è l'aula 16 abbiamo poi il laboratorio diviso in due squadre al mercoledì pomeriggio quindi sarebbe a seguire della lezione non lo facciamo ovviamente questa settimana perché non avremo ancora nulla da fare l'elaboratorio inizierà la settimana prossima ok quindi oggi alle due e mezza siete liberi visto che c'è anche bel tempo ma dalla settimana prossima cominciamo a lavorare a letto io aspetterei ancora qualche giorno a dirvi come sono divise le squadre squadra 1 squadra 2 in termini di lettera alfabetica in cui si taglia perché in questi giorni l'elenco degli iscritti è ancora molto dinamico quindi è inutile decidere un punto di taglio adesso che poi devo spostarlo più avanti quindi diciamo all'inizio della settimana prossima al più tardi mercoledì no mercoledì no lo dico almeno il giorno prima in modo che sappiate regolarvi lo metto poi sul sito la divisione in squadra il laboratorio è il LEP che dovreste già conoscere tutti bene e in laboratorio si useranno dei software che sono software gratuiti alcuni open source alcuni invece sono gratuiti anche se non sono open source in modo che se volete li possiate anche utilizzare per conto vostro al di fuori dalle ore di laboratorio quindi abbiamo scelto degli strumenti di modellazione che appunto voi poteste anche utilizzare che non siano legati a una licenza specifica di una macchina su questa pagina link trovate i riferimenti in particolare il primo programma che useremo è questo Ashta che è uno strumento per la modellazione UML c'è una versione community che è quella gratuita mentre c'è la versione completa che è quella a pagamento è un software di fatto che richiede solamente di aver installato Java sulla vostra macchina per poter girare poi parte è un editor grafico è uno strumento di disegno di modellazione quindi sul laboratorio ovviamente lo trovate già installato se volete cimentarvi per conto vostro qui ci saranno poi tutti i link agli strumenti di cui avete bisogno per poter lavorare quindi in questo contesto cosa facciamo? beh cerchiamo di capire questi sistemi informativi molto alla leggera come si inseriscono nelle organizzazioni aziendali quindi qual è l'interazione e la differenza tra quello che è il sistema informatico e il sistema organizzativo dell'azienda alla fine tu hai degli strumenti informatici hai delle persone con dei ruoli dei processi che in qualche modo devono interagire questa è la parte ovviamente complessa da capire le due cose si intrecciano tra di loro avere qualche idea su come funzionano questi sistemi informativi dico qualche idea nel senso che alla fine del corso dedicheremo forse quattro ore in tutto a vedere le tecnologie web che sono quelle di fatto sulle quali si basano oggi i sistemi ma soprattutto appunto ci concentreremo sugli approcci progettuali quindi ragionare in modo top down capire le architetture quindi il sistema complesso come lo distribuiscono come è diviso in moduli che tipo di sistemi esistono sul mercato e poi qualcosa che ci permette di imparare a formalizzare i requisiti questa parola sotto vuol dire consentire per consentire lo sviluppo di sistemi informativi quindi sarà un corso se vogliamo nel mercato dei consulenti questa fase qui questo mestiere tra virgolette che cerchiamo di approcciare a quello dell'analista colui che analizza i problemi capisce i problemi capisce la parte del dominio capisce l'azienda di che cosa ha bisogno capisce i clienti dell'azienda di cosa ha bisogno eccetera analizza questi bisogni e li formalizza sotto una serie di specifiche funzionali e non funzionali requisiti funzionali non funzionali specifiche di funzionamento e modelli cose che poi sono le varie fasi le varie tipologie di modelli che vedremo durante il corso i quali possono servire come base per lo sviluppo e la realizzazione del sistema quindi ci inseriamo in questa parte prima del progetto prima dello sviluppo prima dell'implementazione quindi qua non mi dispiace per voi non ci occupiamo troppo di tecnologia e anche per me non ci occupiamo troppo di tecnologia e non vi insegniamo né vi chiediamo chiaramente la competenza per poter realizzare direttamente i sistemi informativi quindi quelli di voi che arrivano dal come si chiama laurea 8 di ingegneria gestionale primo livello in cui hanno imparato anche degli skill tecnici purtroppo non li potete mettere a frutto praticamente in questo corso anche se presumibilmente la conoscenza di aver imparato a costruire delle applicazioni nei vari modi nei vari corsi sicuramente vi può aiutare a capire il livello superiore che è quello della progettazione per gli altri dovranno fare uno sforzo in più perché gli chiederemo di progettare dei sistemi di cui non hanno ancora molto provato a costruire dei pezzettini nella triennale quindi sarà un pochino più un lavoro di lavorare un pochino più sull'intuito sul ragionamento che non su una anche esperienza in prima persona purtroppo la divisione alfabetica dei corsi non ci permette di fare diversamente di differenziare i contenuti sulla base della vostra provenienza come abbiamo provato a fare un anno all'inizio ma è stato devo dire complicatissimo da gestire dal punto di vista proprio organizzativo per cui abbiamo deciso di di non fare questo quindi vabbè se vogliamo questa V questo disegno qua fatto di questi blocchi che sono grossomodo organizzati come una lettera V riassume un po' il ciclo di vita dei sistemi informativi di tutti i sistemi informativi non solo anche informatici ma anche di altre tipologie noi percepiamo o comprendiamo che ci sia facilmente una fase di implementazione in cui ci sono degli omini che passano le giornate a divertirsi a scrivere lettere su una tastiera o fare altre cose o costruire delle schede con un saldatore a realizzare dei prodotti in realtà la fase di implementazione anche se tendenzialmente la più costosa e anche la più rischiosa non è quella principale perché soprattutto poi nella società di oggi in cui le aziende tendono a specializzarsi molto hai dei team specializzati nell'implementazione di sistemi che qualcun altro ha progettato spesso si fa questa operazione in cui è un'azienda che fa la progettazione e poi dà le specifiche a qualcun altro che li debba realizzare questa progettazione a sua volta viene fatta sulla base di requisiti che sono stati forniti tipicamente dal cliente finale o da un consulente del cliente finale che specifica di che cosa ha bisogno l'azienda la differenza tra requisiti e progettazione è che i requisiti ti dicono di che cosa hai bisogno e la progettazione ti dicono come deve essere fatto il sistema se va tutto bene come deve essere fatto il sistema affinché soddisfi i bisogni espressi nei requisiti se hai fatto male il progetto invece come deve essere fatto un sistema che fa cose che non sono proprio quelle che voleva a monte dei requisiti per poter dire di che cosa ho bisogno devo fare un'analisi di dominio quindi comprendere di che cosa si tratta qual è il problema che devo risolvere fino a che punto quindi tornando indietro partiamo da un problema analizziamo questo problema distilliamo dall'analisi del problema dei requisiti minimi che vogliamo che il sistema informatico debba implementare perché poi magari molta dell'analisi del problema ci fa capire che ci sono delle riorganizzazioni necessarie dei ruoli del segnale che nulla hanno a che vedere con il sistema informatico ma a un certo punto un sotto insieme di questa analisi ci farà capire che abbiamo delle necessità di tipo tecnologico e quindi possono diventare dei requisiti per un sistema informativo nuovo o un aggiornamento dell'esistente da qui in avanti noi un pochino ci fermiamo in questo corso ci fermiamo ma il processo continua con la fase di progettazione di dettaglio e poi implementazione una volta che l'implementazione è finita siamo a metà strada perché una volta che il prodotto è finito bisogna vedere due cose se funziona e se fa quello che volevamo quindi ogni prodotto finito risale poi questa scaletta il lato destro della V e deve essere innanzitutto testato deve essere una fase di test in cui di fatto il progettista che ha commissionato l'implementazione verifica che questa implementazione esegua le funzioni di progetto sia stata implementata correttamente a volte si parla di test unitario unit testing per dire un test che si può fare un blocco alla volta un'unità per volta verificando che ciascuna delle unità faccia ciò che deve fare ma poi c'è il test più completo quello definitivo è quello in cui il committente finale scusate il committente iniziale ritorna nel momento finale e dice ok il sistema che mi stai consegnando che il team tecnico mi dice che funziona ma funziona e fa una cosa inutile o funziona e fa ciò che mi serviva e ciò che avevo espresso a livello dei requisiti perché magari scopri dopo due anni che è stato costruito un sistema che non funziona esattamente come avevi in mente e il guaio sta proprio qua come avevi in mente in questo pezzo di frase perché tu quando chiedi una cosa hai in mente certe funzionalità però il fatto che tu l'abbia in mente non significa automaticamente che telepaticamente il tuo team tecnico capisca quali sono le tue esigenze per questo serve diciamo così molta chiamiamo pure disciplina precisione nelle fasi iniziali di analisi e di creazione di requisiti per poter esplicitare le esigenze diciamo diciamo il termine cliente poi magari non è necessariamente un cliente è un committente interno o un'esigenza interna però per semplificare i termini usiamo cliente capire che cosa aveva in mente il cliente in modo da poter realizzare un sistema che che lo soddisfi che soddisfi le sue esigenze tenendo presente che il cliente molto spesso non è in grado di esprimere le proprie esigenze non sa che linguaggio parlare o se parla un linguaggio parla il proprio quindi a questo serve aver formalizzato le varie fasi specifiche in modo che tra l'altro tra le varie specifiche che ci saranno i documenti requisiti ci sarà anche scritto all'inizio dei tempi come verranno fatti i test allora io ti consegnerò un sistema e quando te lo consegnerò faremo queste prove in modo che poi in fase di accettazione se tutto fila liscio diciamo così si sta diciamo in piena conformità rispetto a quanto era stato richiesto perché poi succede anche che il cliente il committente cambia idea dopo magari un anno sei mesi quando gli consegni il prodotto dici sì sì però magari se fosse un po' diverso e quindi si entra in diatribe infinite non vi sto a raccontare troppi dettagli ma ci sono discussioni che vanno avanti che io conosca almeno da 5-6 anni di sicuro su un singolo prodotto che non si riesce a mettere in produzione perché ogni volta si comincia da capo allora noi in questo corso cerchiamo di dotarsi degli strumenti per evitare che succedano pasticci del genere ok vabbè qui non voglio entrare troppo in un'unica abbiamo solo l'elenco degli argomenti principali dove 14 non è un argomento ma il numero di pagina che è finito lì che verranno trattati nelle varie parti del corso ecco qui vedete molti modelli modelli di processo modello concettuale poi ci sarà il modello dell'interfaccia utente casi d'uso eccetera noi usiamo come strumenti di modellazione uno standard internazionale che si chiama UML qualcuno l'aveva già visto o intravisto o studicchiato nei corsi precedenti noi non facciamo qua un corso di UML completo però usiamo quei metodi di rappresentazione che sono stati standardizzati e quindi hanno un'interpretazione univoca non ambigua dell'informazione e questo strumento hashtag che useremo è proprio pensato per costruire i modelli appunto di UML che sono un pochino più formali di quello che trovate annualmente in campo aziendale dove si preferisce il disegnino a colori piuttosto che il disegnino formalmente corretto per ragioni di comunicazione ma noi perlomeno impariamo a fare le cose precise poi se le vogliamo mettere in bella c'è sempre tempo sinceramente ciascuno di questi macro argomenti porterà via grosso modo dalle due alle tre settimane del corso quindi grosso modo avremo due tre settimane le prime due settimane sul modello concettuale poi sul modello di processo forse tre poi comincieremo con i requisiti poi con i casi d'uso eccetera man mano che andremo avanti nel corso seguiremo anche un po' l'ordine di creazione di questi manufatti di questi elaborati imparando specificare i sistemi da diversi punti di vista in modo che alla fine del corso avremo tutti gli strumenti per poter modellare un sistema e specificarlo a 360 gradi o quasi quello che dovremo capire fin dall'inizio è che il sistema che stiamo descrivendo è uno solo poi oggi lo vedo dal punto di vista dei concetti domani lo vedo dal punto di vista dei processi dopo domani lo vedo dal punto di vista delle interazioni e il giorno dopo dal punto di vista degli utenti ma il sistema è sempre lo stesso quindi l'attenzione che dovremo sempre portarci dietro è di mantenere la coerenza assoluta tra i vari pezzi perché se in un modello un concetto che si chiama che ne so costruendo il sistema di prenotazione delle aule per visto che sia quasi in un'aula per il Politecnico se una cosa da una parte la chiamo aula dall'altra la chiamo classe non si capisce più niente quindi dovremo fare anche molta attenzione al di là degli aspetti sicuramente terminologici ma anche poi di coerenza dare sempre il stesso significato la stessa cosa nei vari passaggi se dico che un utente ha la possibilità di vedere le prenotazioni un altro che ha la possibilità invece di modificarle devo poter distinguere bene i due utenti che cosa fanno che ruoli hanno e così via lo impareremo però diciamo così un tavolo che vi metto dall'inizio è la coerenza la precisione come si decidono le cose noi in laboratorio cercheremo di portare avanti due tipi di esercizi l'esercizio vabbè chiaramente che vi permette di mettervi la prova sulla realizzazione di queste rappresentazioni su esercizi semplici di volta in volta diversi ma poi a un certo punto introdurremo un sistema informativo un progetto che sarà sempre lo stesso nelle varie esercizazioni per cui faremo esercizi sparsi diciamo così in ordine sparsi su temi diversi ma poi cercheremo di portare avanti anche un progetto unico in modo che su questo diciamo così poterci ragionare anche in termini di coerenza tra ciò che avevamo fatto il mese scorso ciò che facciamo adesso vediamo se se quadra vediamo se devo modificare ciò che avevo fatto prima perché poi questo processo di specifica è sempre e ve ne accorgerete un processo iterativo aggiungo un pezzo di qua o mannaggia dall'altra parte devo modificare è normale che sia così alla fine di un certo numero di iterazioni si arriva a un progetto che consideriamo finito e che è quello che vi chiederemo di fare all'esame nel senso che all'esame vi chiederemo vi descriveremo un caso di studio più o meno vero più o meno inventato di solito quello che facciamo è prendere qualche sistema informativo esistente e semplificarlo di molto o estrarne una piccola parte delle funzionalità e vi descriviamo come se noi volessimo costruire quel sistema il sistema deve fare vogliamo che faccia queste cose descriviamo a parole in modo informale come di solito sempre si parte si parte da una descrizione testuale e poi da lì parte l'attività di progetto è quello che vi chiediamo all'esame su carta carta e penna due ore di tempo di costruire alcuni modelli tra quelli che abbiamo visto nel corso relativi a quel caso di studio dico alcuni non alla progettazione completa per ragioni di tempo quindi se noi vi chiedessimo per ciascun progetto di fare modello concettuale quello di processo quello di caso di uso quello di requisiti il mockup dell'interfaccia eccetera ci vorrebbero sei ore non due di compito scritto a parte il fatto che ce li resta ma non abbiamo proprio fisicamente le aule allora quello che facciamo è diciamo così a sorteggio a turno in ogni appello vi chiediamo alcuni di questi modelli e non tutti in modo che poi la rotazione prima o poi capitano tutti ma in ogni appello in ogni esame ce ne sono un sotto insieme quindi c'è sempre l'analisi dello studio chiaramente mentalmente dovete farvi un'idea generale però gli schemi che vi chiediamo le analisi che vi chiediamo sono poi specifiche di volta in volta ecco poi oltre a questo aggiungiamo anche tre domandine sulla parte di teoria la parte di teoria che chiamo teoria è quella un pochino più da un lato metodologica quindi dove c'è 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 il tassonomia i modi di descrizione dei sistemi informativi dall'altro un pochino più descrittiva nella quale andiamo a raccontare come sono fatti e come funzionano quali sono le macro funzionalità dei sistemi informativi delle tipologie di sistemi informativi prevalenti noi ragioneremo soprattutto in termini di sistemi informativi diciamo custom costruiti alla bisogna per risolvere certe esigenze specifiche che sono quelli più complessi ma in realtà esistono molte esigenze che si ripetono cioè il fatto di avere uno strumento per mantenere il contatto con i clienti è comune a tutti allora esistono dei prodotti specializzati delle categorie di sistemi informativi che includono in sé una certa serie di funzionalità che negli anni si sono abbastanza standardizzate definite quindi in quel caso per far seguire ad esempio dei clienti ci sono prodotti che si chiamano CRM Customer Relationship Management che hanno tutti grossomodo la stessa funzionalità poi uno meglio uno peggio uno più forte una parte un altro costa di meno eccetera eccetera quindi queste macro categorie di prodotti vi daremo un'occhiata giusto perché quando uscite da qua non sbarriate gli occhi se vi nominano una delle 270 sigle che circolano sul momento e che si presuppone che tutti conoscano e sappiate orientarvi poi alla fine sono sistemi informativi come gli altri con certe caratteristiche quindi vedremo un pochino anche quegli aspetti quelli sono prodotti diversi perché sono prodotti fatemi dire scaffale già fatti ti serve lo prendi ti serve tutto lo usi tutto te ne serve solo una parte alcune funzioni non le usi magari c'è chi non pagarle e finisce lì nel senso che ti adegui ai prodotti esistenti e ne scegli uno che si adatti meglio alle tue esigenze punto finisce lì mentre invece la parte complessa è quando il prodotto esistente non c'è e lo devi far costruire o te lo devi costruire vabbè io qua ho indicato dei testi ma questo di Lodon è molto citato è utilizzato però è un tomo mostruoso e anche un costo altrettanto mostruoso noi ne prendiamo delle parti però effettivamente dal punto di vista come ho chiamato descrittivo cioè che descrive le varie tipologie di sistemi e dell'impatto sull'azienda è molto completo è un testo che usano negli Stati Uniti per i corsi di MBA e cose simili quest'altro invece è un testo italiano pochino più semplice se ne trovano in giro perché secondo me sono usati in biblioteca ci sono se volete dare un'occhiata noi prendiamo alcune parti da questo lo indico come testi suggeriti non richiesti perché secondo almeno la nostra esperienza le informazioni diciamo così che veicoliamo durante il corso nelle lezioni nelle slide normalmente non sufficienti soprattutto essendo l'esame di tipo progettuale cioè vi chiediamo di fare un progetto quello che è più importante di tutto il corso è e sono sempre le esercitazioni in particolare quelle in laboratorio quindi al di là dei libri che uno può leggere 50 volte ma ti servono per forse dove è finito ecco per rispondere meglio alle domande di teoria ma il grosso del diciamo quello del contenuto dell'esame è imparare a modellare a descrivere correttamente a progettare correttamente le cose ecco a proposito di progettare una domanda che ci viene sempre ma delle esercitazioni di laboratorio ci date le soluzioni? la risposta è sì ma cioè tendiamo quando facciamo esercitazioni in laboratorio a darvi la soluzione la soluzione io chiedo sempre agli esercitatori di non darla prima di due settimane anche se l'avessero già pronta lì darvi un po' di tempo in modo che possiate tirare fuori il meglio di voi prima di vedere la soluzione fatta da un altro vedere una soluzione fatta da un altro perché stiamo parlando di progetto non è l'integrale che o viene 3.7 detto eppure sbagliato e a fronte di certi requisiti tu lo puoi progettare in 100 modi diversi tutti giusti più alti 100.000 modi sbagliati quindi la correzione o anche da parte vostra ma ovviamente anche da parte nostra all'esame non è esattamente identico a quello che avevo pensato io no ci sono molti modi di interpretare il test e costruire dei sistemi che funzionano in modo diverso ma soddisfano gli stessi requisiti soddisfano le stesse esigenze quindi tenetelo ben presente non c'è la soluzione c'è un modo di risolverlo fatto da tizio quello fatto da caio magari diverso a volte lo vedete magari nei due corsi i due risultatori alcune volte risolvono lo stesso esercizio e vedete che le soluzioni sono leggermente diverse perché? ma perché sono partite da un ragionamento diverso alla fine il prodotto che costruiscono sarà diverso ma fa le stesse cose o fa cose analoghe o ugualmente valide la stessa cosa vale per voi io mi aspetto nell'esame che quando mi consegnate i compiti siano tutti uno diverso dall'altro perché diversamente non può essere chiaramente ci sono alcuni elementi che devono essere giusti fatti in un certo modo e altri elementi che infatti così sono sbagliati nel senso che non sono conformi o al formalismo di descrizione o ai requisiti che sono stati dati però al di là di questo ognuno ha un suo ragionamento che esplica siamo così nella fase di progettazione è in sito nel termine progettare costruire qualcosa che non c'era e nel costruirlo ci metti del tuo non stai semplicemente trasformando una cosa che c'era con delle regole predefinite ok qui questa frase sulle tesine la sorvolerei un attimo perché avevamo pensato un po' di dare per chi volesse approfondire la possibilità di fare un lavoro più completo quindi di fatto prendere un sistema informativo e modellarlo questa volta da tutti i punti di vista e non solamente quei pochi che sono fatti all'esame se qualcuno fosse interessato lo possiamo valutare ma non mi sembra che accresca particolarmente l'esperienza rispetto al percorso normale d'esame ah una cosa che tanto poi me la chiederete il peso in termini di punti normalmente per la parte di progettazione rispetto alla parte di teoria siamo sul 27 più 6 abbiamo 6 punti a domande di teorie 27 per la parte di perché tanto nessuno lo fa tutto giusto quindi dobbiamo partire un pochino più in alto però vuol dire che come vi dicevo il 90% del corso è sulla parte di progettazione avete domande altre dubbi cose che ho dimenticato di dire esigenze particolari richieste no direi di no allora spenderei quindi la mezz'ora che ci rimane a cominciare a introdurre l'argomento un pochino Grazie.